Sempre più piccoli e sempre più performanti, divertenti da pilotare, sono i micro droni da corsa. Una vera e propria moda. Questo è il QX90. Parliamo di un piccolo drone, da una quarantina di grammi di peso, 50 grammi con la batteria, che vi permette di fare FPV con un drone già pronto al volo. Si chiama BNF, Bind and Fly. Quindi vi permette di utilizzare la vostra radio, io in questo caso utilizzo una Spectrum, per poter volare con il piccolo QX90 e per poter vedere dove state andando con un paio di occhiali FPV. Innanzitutto ringraziamo Recensioni Droni per averci dato l'opportunità di recensire anche questo piccolissimo quadricottero. Ma a parte l'entusiasmo e il divertimento per averlo già provato e poi vi mostrerò le immagini, vi voglio parlare prima di alcune note negative di questo piccolo mezzo. Partiamo da questa telecamerina qui. La telecamerina è valida, ma la saldatura che abbiamo dietro all'antenna è veramente fatta male. Tant'è che quando già uscita dalla scatola era particolarmente barcollante l'antenna. Ho dovuto dare un punto di saldatura con lo stagno io a casa. La telecamera non viene fornita già collegata come la vedete, ma viene fornita attaccata con questo piccolo elastico che ho comunque mantenuto su questo drone. Ma ho dovuto fissarla con della colla a caldo, perché altrimenti barcollava troppo e non sarei riuscito mai a volare. Anche per un discorso di inclinazione del mezzo stesso. È un mezzo con motori brushed, ma l'avrete già visto, visto che è da un po' che lo sto facendo ruotare qui davanti a voi, ma ugualmente divertente e performante da pilotare. Un altro difetto di fabbricazione, secondo me, è il fatto che qui sotto c'erano dei piedini una volta. Dico una volta perché appena ho provato a farlo decollare e l'ho fatto cadere per terra, i piedini sono saltati via, tre su quattro piedini. Quindi direi che non servono i piedini, ve li sconsiglio, ecco. Io non li rimetto più. Cosa viene fornito insieme al piccolo drone, insieme al piccolo QX90 all'interno della scatola? Innanzitutto la scatola è questa, quindi vedete le dimensioni veramente, veramente mignon anche della scatola. Viene fornito con dei velcri per poter collegare la batteria qui sotto senza dover utilizzare altri elastici. Viene fornito con due motori di ricambio, viene fornito con ben due batterie lipo da 600 mAh, quindi gran cosa, e visto che ci sono due batterie lipo, viene fornito con un cavetto che permette di ricaricarle entrambe contemporaneamente. Avete però necessità di un caricatore che abbia la presa di bilanciamento, perché altrimenti non riuscirete a caricare le due batterie. Inoltre vengono date anche le classiche quattro eliche di scorta. Qui abbiamo il QX90, armiamo i motori e vediamo come si comporta indoor senza gli occhiali, quindi con il volo a vista. E' un mezzo stabile, effettivamente, si pilota abbastanza bene, i PID sono stati leggermente modificati, ma poca roba, quindi è praticamente quasi come quando esce dalla scatola. Ok, andiamo a provarlo fuori. Ok, andiamo a provarlo. Ok, andiamo a provarlo. Vi ricordo che questo mezzo per poterlo usare occorre avere un computer perché qui dietro abbiamo una presa usb micro mini micro usb che deve essere collegata al computer perché come vedete qui in fondo io utilizzo betaflight e bisogna impostare i parametri sia della radio che del piccolo drone quindi anche i pid e tutto il resto. Vola già bene con i pid preimpostati quindi bisogna avere un minimo di conoscenza nell'ambito. Non è difficile imparare è pieno zeppo di forum online quindi anzi è una bellissima delle bellissime communities quindi vi consiglio di entrare in questo fantastico mondo. Non mi resta che augurarvi buoni voli con i vostri piccoli droni per fare FPV e ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto da tommasocodolo.com